bella 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 amici miei video nuovo share factory studio andiamo a prendere un progettino che stavo facendo adesso allora seguite gli altri video per tutte le varie impostazioni con la x si può aggiungere una clip potete aggiungere una clip presente nella vostra collezione quadrato potete modificare spezzando tagliando spostando cancellando clonando il volume anche della vostra clip e modificare le tracce con la x potete aggiungere anche degli screenshot vedete come ho qui potete aggiungere delle tracce che sono ciao ragazzi che sono delle tracce video e audio della musica che potete anche importare dalla vostra chiavetta usb a cosa importante dovete assolutamente seguire il percorso sulla chiavetta usb che vi dice lui quindi dovete fare slash share factory tutto maiuscolo slash musica e poi mettete dentro le vostre canzoni come anche tutta la parte di mettere gli overlay che sono questi qua più overlay andate nelle vostre immagini importate io qua le mie e se volete invece importarle dovete farlo da fuori da fuori da qui vi faccio vedere così dovete andare qui e no 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 dovete andare qui importà musica importa video potete importare i video sempre a chiavetta usb share factory tutto maiuscolo barretta videos con la v maiuscola e invece se volete importare le immagini dovete andare qui e fare share factory image images con la i maiuscola e poi c'è anche un effetti se volete importare gli effetti e dovete fare share factory con la maiuscola sounds ok sound con la s maiuscola allora andiamo a vedere il mio progetto come vi stavo facendo vedere prima che voglio farvi vedere l'aggiunta l'aggiunta del video voi potete praticamente registrare il vostro video come ho fatto prima quindi per registrare il video andate su più aggiungi traccia e qui registrate il video fate x e vi farà il countdown per poterlo registrare quando l'avete già registrato eccolo qui voi avete delle opzioni andando con il quadrato modifica traccia 2 quadrato avete spezza taglia sposta cancella volume se è troppo alto basso il layout che questi queste immagini vedete tipo il fumetto dietro o queste cose che ci sono le vignette che vi vi arrotonna un po tutte le cose ecco e e chiaramente vedete vedete che un po arrotondato e modifica layout quadrato possiamo andare a mettere layout del pip che avete questi qui in alto a destra in basso in basso a sinistra in alto a sinistra in centro perno che arriva dal fianco scostato affiancato a schermo intero vi faccio vedere schermo intero chiaramente schiacciate cerchio per per accettare la modifica eccolo qua oppure andiamo a farlo vi faccio provare proprio vi faccio vedere questo qui da perno cerchio ok ed eccolo che arriva là in alto perfetto oppure ve ne faccio vedere un altro tanto poi dopo potete provarli ve lo faccio vedere scostato che è molto carino cerchio potete andare avanti indietro con l'r2 fate la preview e verrà fuori una cosa del genere chiaramente con il quadrato potete fare tutte le modifiche anche gli overlay potete aggiungere un overlay che potete mettere uno sticker per dire lo potete mettere la durata potete scegliere dove metterlo l'opacità dove potete spostarlo dove volete al cerchio lo fa potete cancellare lo sticker potete aggiungere un testo cgg potete trasportarlo dove volete potete anche dargli un effetto e potete dargli anche un'animazione c'è solo un po non tantissima ma un po di roba si può fare potete anche cancellarlo o anche cambiare il colore l'opacità la durata tutte queste cose con la cancelliamo un testo potete aggiungere le transizioni a fine dei vostri pezzi quindi sono queste qui le cancellazioni tipo questo e vi appare da da un'immagine all'altra vi appare così o potete mettere tipo fumetto tipo così oppure tipo cinematiche che sono un po più belle tipo quando arriva la macchinina ok tasto option salvare progetto esporta in galleria impostare impostazioni esportazione e qui potete selezionare quanto deve essere bello e poi potete anche sempre tasto option generale una miniatura che la miniatura è quella che praticamente vi fa vedere il il programma quando quando facciamo per dire questo ve la faccio vedere una miniatura generiamo quando voi andate a salvare il progetto avrete la miniatura che vi farà vedere anche poi su youtube che vedete la in alto ok nuovo video share factory se avete qualche qualcosa da chiedere al mitico marco drums games channel qualcosa su sul programma sull'applicazione share factory da playstation 4 o 5 chiedetemi io credo che sia su playstation 5 perché su 4 non me la ricordo che c'era però comunque potrebbe anche esserci scrivetelo nei commenti e mi raccomando seguitemi su youtube per questi video tutorial e tanti altri video trofei tanti 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 altri video unboxing gameplay e tutti i nuovi giochi in day one posto anche le live che faccio su twitch e mi raccomando di seguirmi su twitch marco drums sempre marco drums games e su facebook instagram tik tok e twitch e ho anche un bel canalino discord sempre marco drums games ok amici comunque spero che i miei video tutorial su share factory vi siano utili se volete chiedere qualcosa scrivete nei commenti che pian pianino rispondo a tutti grazie a tutti al prossimo video marco drums games channel share factory è tutto ciao